Nonostante tutto è pronta a ripartire la New Basket Agropoli. Nei giorni scorsi la dirigenza della giovane compagine cestistica che milita in serie C-Gold ha incontrato il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola. Si è parlato della prossima stagione e della ripartenza. La stagione 2019-2020 è stata troncata con la chiusura definitiva del campionato a causa dell'emergenza epidemiologica legata al Covid-19. Ciò ha vanificato gli importanti investimenti effettuati per puntare alla promozione in serie B e a tentare di rivincere la Coppa Campania. Nonostante le ingenti difficoltà consapevoli che i costi del passato non sono più sostenibili, la società ha la voglia di proseguire il cammino virtuoso portato avanti finora e vuole farlo unendo e creando una sinergia tra le varie forze in campo. Il primo cittadino si è impegnato a rendere fin da subito disponibile il pala di concilio a seguito di un intervento di sanificazione così da poter riprendere in sicurezza gli allenamenti della prima squadra. Proseguono le interlocuzioni per riconfermare le sponsorizzazioni dello scorso anno e si è anche alla ricerca di nuovi partners. Programmare la nuova stagione è estremamente complicato, certo, e che sarà inevitabilmente diversa da tutte quelle che ci sono state finora. La situazione economica che la pandemia ha generato è gravissima, nel contempo si cerca un'unione di intenti con le forze in campo. Visto quanto accaduto con l'emergenza Covid-19 fa sapere la dirigenza della New Basket Agropoli, auspichiamo che sia terminato ad Agropoli il tempo delle divisioni e possa iniziare quello delle condivisioni. Non c'è ragione ancora di pensare a coltivare ognuno il proprio orticello, ma di aprirsi a nuove collaborazioni al fine di arrivare tutti insieme ad un traguardo che sia sintesi di un lavoro comune nel nome dei giovani soprattutto e della città.